Sindaco Perazzetti, tra poco si torna a scuola con delle belle notizie per il comune di Città Sant'Angelo perché tra il 2023 e il 2024 nascerà questo nuovo polo, questo nuovo asilo nido con dei finanziamenti del bando del PNRR. Era un progetto che avevamo pensato già dal 2020, lo volevamo analizzare con altri asset di finanziamenti ma naturalmente facendo seguito a quello che era l'indicazione del PNRR proprio sugli asili nido l'abbiamo presentato, è un progetto innovativo perché vede la costruzione di un asilo nido per 60 posti per aiutare tutte le giovani coppie che oggi hanno questa dieta notizia di avere dei figli è un polo che nasce a Madonna della Pace, lo avevamo inserito all'interno del nostro programma elettorale come primo punto proprio per venire incontro alle famiglie, un progetto innovativo che vede una struttura totalmente legno antisismica con ampie vetrate, ampi spazi e soprattutto ampie zone verdi all'esterno dove i bambini potranno godere dello spazio. Un progetto che andrà anche a rivedere la viabilità della zona spesso in crazy con degli ingorghi. Sì perché quella zona di Torre Liguerizia in cui è presente l'altra grande scuola che è il polo della Verzella vede delle situazioni di sofferenza viaria soprattutto in entrata e in uscita negli orari scolastici ecco perché a fronte di quella problematica lì abbiamo voluto posizionare questo asilo nido e di concerto fare una viabilità di uscita da quella zona creando quindi una grande rotatoria intorno al centro abitato che è presente vicino alla scuola così da lenire quelle che sono le problematiche dei residenti della zona. Per essere più chiari c'è anche capitolo elezioni, c'è stata la crisi di governo, i fondi PNRR sono sicuri quindi la scuola è al sicuro? Dovrebbero essere sicuri, sono sicuri anzi non ne ho dubbi anche perché è un fondo che servirà a far ripartire la nostra nazione e noi amministratori dobbiamo essere bravi a sfruttarli nella loro interezza dobbiamo essere pronti a presentare progettazioni, studi di fattibilità avanzati e ci hanno dato questa possibilità per poter far ripartire le nostre comunità.